Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio per lavori. Sulla A12 code a tratti per lavori in direzione Livorno tra Massa e Persilia. Sulla A11 l'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze è chiusa per lavori fino alle 19. Sull'accordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, senso unico alternato all'altezza del chilometro 27 nel comune di Borgo. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.